Billy? Billy? Sei qui? Spero che il mostro non abbia preso anche te! Billy! Paige! Piper! Se ci siete, venite fuori e cercate di attirare la mia attenzione in qualche modo, d'accordo? Pronto? C'è qualcuno? Allora! Ho perso l'udito durante l'incontro più importante della mia vita! Non sento neanche una parola! Cosa? Non ti sento! Oh, bene! Bene, mi serve il tuo aiuto, deve essere stato un demone! Che cosa fai? Oh, certo! Sì, il mimo! Bene, sì sì! Sei una scegna! Sì, d'accordo! Sei una scegna! Sei una scegna arrabbiata! No, sei fuori bonda! Sei impazzita! No, no, certo! Bene! Palla? Sfera di fuoco! Sì! Sì! Pagnelli! Certo! Un demone sì mi ha rubato il mio dito! C'è qualcuno? Non lo so! I pupazzi! C'è... Ah, Phoebe, Paige è in casa. Paige non c'è. La sua macchina è qui fuori. Puoi ripetere parlando lento? Sì, la sua macchina è qui fuori. Oh, sì, la sua auto. Quello che volevo dire è che non può parlarti adesso. Certo, è colpa mia. Volevo che si esibisse nel mio locale, insomma, una voce così bella. Volevo aiutarla a superare la sua paura. Perché mi guardi la bocca? Eh? Ho qualcosa nei denti. Senti, ho le orecchie otturate, credo. Sì, devo aver preso freddo ieri notte, perciò non ti sento tanto bene. Ma ho capito il discorso sui tuoi denti e sono molto belli, bianchi. Volevo chiedere scusa a Paige e se riuscissi a parlarle un attimo potrei forse... No, no, Nate. No, 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 no. Allora le dirò che sei passato e ti farò chiamare, d'accordo? Va bene. Ciao, Nate. Allora, no, 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 no. Grazie a tutti.